Signore e signori, vi presenterò l'ottava meraviglia del mondo, il solo e grande Pinocchio! Ciao, babbo! Che mi venga un colpo? Un bambino quasi vero. E ora girati a fammi vedere come stai. Ti aspetterò qui, al tuo ritorno. Pinocchio se ne va a Zonzo chissà dove, senza una coscienza. Capisci che potrebbe cacciarsi in qualche guaio? Di certo non lo vorrei sulla coscienza. Ogni persona vorrebbe essere importante. E io voglio diventare vero. E perché mai vorresti diventare vero quando puoi diventare? FAMOSO! Pinocchio doveva già essere a casa. Non sarai più un semplice burattino. Te lo garantisco. Pinocchio. Sii bravo. Coraggioso. E disinteressato. Tu sarai sempre il mio vero bambino. Una bugia può cambiare una persona, Pinocchio. Che mi capita, Grillo Parlante? Si direbbe un incantesimo. Beh, vado a naso, ovviamente.